Giuseppe Paolini interviene in conferenza stampa per smontare congetture emerse nelle ultime settimane sul futuro del palazzo della provincia e sulla futura destinazione dell'amministrazione che resterà in centro storico rinunciando il consumo di suolo ipotizzato per costruire una nuova sede su un terreno di proprietà provinciale a Villa Fasticci, una provincia che è ben precisa su quel che sarà la destinazione d'uso dell'edificio di Via Gramsci. Noi non abbiamo mai pensato di andare fuori dal centro storico, abbiamo dei problemi qui di ristrutturazione e dei problemi statici all'interno di questo palazzo, abbiamo trovato la possibilità di spostare la provincia da qui acquistando la sede della Banca d'Italia, abbiamo chiesto alla sovraintendenza quali erano i vincoli perché prima era prevista nel vecchio piano regolatore demolizione e ricostruzione, la sovraintendenza ha messo dei vincoli ma sul palazzo nuovo, sul palazzo vecchio noi abbiamo sempre detto che avremmo spostato un liceo, molto probabilmente il Mamiani che è qui attaccato all'altro e avrebbe tenuto la provincia per sé l'uso e non avrebbe venduto la sala Adelebei e la sala Pierangeli. Per tutto il resto quello che ci vogliono fare, anche la proposta che ho sentito, che è uscita sui giornali che il sindaco Matteo Ricci ha proposto di farci una sede universitaria, benvenga, benvenga, sarei contento però noi siamo costretti di uscire da qua, di trovare un'altra soluzione per l'enorme spazio che abbiamo per i costi enormi che abbiamo per il riscaldamento, che poi vuol dire anche risparmio energetico per cui per noi la sede Idonia è proprio la sede della Banca d'Italia. Entro il 15 di febbraio avremo tutte le analisi che abbiamo richiesto su quel sito da parte della Politecnica delle Marche e dopodiché andremo, se ce la facciamo, a concludere e troveremo un accordo con la Banca d'Italia e inizieremo proprio i lavori per spostare da qui a 200 metri da qua, scusate tanto, in una zona che è via Rossini, non è che usciamo, mi dispiace abbandonare via Gramsci perché no, però via Rossini non è una via secondaria di peso, con di fronte il mare io credo che la provincia abbia proprio una sede dignitosa e quello che faremo è andremo anche lì a cercare di fare una struttura ANZEP con costi energetici bassissimi. È un'operazione intelligente perché oggi siamo in una sede che è, come dicevo prima, sovradimensionata rispetto alle nostre esigenze perché sapete bene che la riforma delle province ha tolto numerose competenze ma anche dipendenti e personale, poi tra l'altro abbiamo avuto anche il blocco delle assunzioni per diversi anni e oggi siamo rimasti in tutto 210 dipendenti grossomodo e questa è una struttura che ha una dimensione di circa 8.000 metri quadri mentre invece a noi ce ne basterebbero 3.000, 3.200, è chiaro che 8.000 metri quadri costano tanto per il riscaldamento, le pulizie, l'illuminazione e quindi dovevamo sicuramente intervenire e fare qualcosa. Tra l'altro l'edificio che vorremmo poi mettere in vendita ha grossi problemi di natura statica e sismica quindi richiederebbe degli interventi importanti, quindi tutto nell'ottica di risparmiare, di spendere meno risorse per liberare anzi risorse nella parte corrente per poter svolgere meglio le nostre funzioni, la manutenzione delle strade e soprattutto delle scuole. Un calcolo di risorse che avrebbe messo in conto oltre 15 milioni di interventi per un'eventuale ristrutturazione degli stabili di via Gramsci. L'ex sede della Banca d'Italia avrebbe invece dimensioni, geografia e pure cifre d'acquisto adatti alle esigenze dell'ente. Le cifre con la Banca d'Italia, loro ci hanno detto, quantomeno la direzione nazionale ha detto che non possono scendere sotto i 2 milioni e 8 per l'acquisto. Quindi noi cercheremo di trattare, di spuntare magari anche un prezzo migliore, dopodiché ci saranno degli interventi anche lì di miglioramento da un punto di vista sismico e statico, però abbiamo già fatto delle prime verifiche e gli interventi non sono così importanti come quelli che avremmo dovuto fare qui. L'edificio è molto solido anche da un punto di vista statico e sismico.